In città torna l'incubo dei furti, sembra essere iniziata l'ennesima fastidiosa ondata che è percepita dai cittadini sempre come molto fastidiosa e antipatica. Nelle notti scorse la polizia di Stato è stata chiamata a bagno per un tentativo di furto in cui i ladri sono riusciti ad entrare, disturbati poi dal rientro dei proprietari e costretti a scappare senza aver preso nulla da un appartamento. Controlli effettuati, ma dei ladri nessuna traccia. A Pettino stesso discorso, ma qui i ladri sono riusciti a portare via anche dell'oro da un'abitazione. Sul posto è dovuta intervenire la scientifica per i rilievi. I controlli sono comunque massicci da parte delle forze dell'ordine. L'attenzione è massima, soprattutto dopo gli ultimi due furti al Globo e alla sala slot in viale della Croce Rossa.